Per consentire l'avvio dei lavori necessari al ripristino del manto stradale, il comandante dei vigili urbani, Nicola Cicolecchia, ha emanato un'ordinanza con la quale ha autorizzato la chiusura al traffico veicolare pedonale del sottopasso Falcone e Borsellino. Il divieto di circolazione per mezzi e pedoni durerà circa una settimana e sarà vigente dalle prime ore di lunedì 5 dicembre fino alle ore 24 di lunedì 12 dicembre, giusto il tempo necessario per il completamento dei lavori. Dalle prime luci di questa mattina, in entrata e in uscita dalla città, sono stati posizionati i cartelli stradali con tutte le indicazioni per aiutare gli automobilisti. Gran parte del traffico è stata deviata sullo sottovia Stefanelli, il primo entrando in città. Per chi raggiunge gravina ad Altamura e deve recarsi a Spinazzola, ma anche per chi deve andare a Corato, la strada più comoda e meglio segnalata è proprio quella della zona artigianale che, avendo strade larghe e comode, consente al traffico di defluire regolarmente senza bloccare la regolare circolazione.